E' sicuro, per il tuo bene ti consiglio di non provocarmi! Che vi prende? Avete smesso di attaccare? Portati! E' una cerco finale! Spero che la pagherà! Preparati! Sei finito! Vedrai che presto la paura si trasformerà in disperazione! Sono qui! E' una cerco finale! Dì la tua ultima preghiera! Addio! Dove sto? Sto arrivando! Comincia a salutare questo mondo! Ha 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 ha!